Buongiorno, vi presento il dottor Marco Comondio che è il responsabile del gruppo di Cibo e Salute. Marco, qual è il significato di questo gruppo e cosa pensi di poter fare nei due anni di mio mandato? Ma nei due anni di mio mandato l'intenzione del gruppo che abbiamo condiviso in diverse riunioni è quella di trasmettere una nuova idea di cibo, un'idea nuova riferita a quelle che possono essere le caratteristiche complessive del cibo, un po' diversa da quella che è la tradizione che noi abbiamo come diabetologi di dieta, quindi intendere un cibo inteso complessivamente come stagionalità, come rispetto dell'ambiente e soprattutto come cultura di un'alimentazione nuova che sia rispettosa di quelle che sono le stagionalità dei cibi, soprattutto perché noi siamo abituati a mangiare cibi ormai di tutte le stagioni, che non tengono conto di quelle che sono le caratteristiche dell'alimentazione che noi stiamo consumando. Avete delle collaborazioni con strutture esterne? Abbiamo delle collaborazioni con strutture esterne che ci derivano da molti anni di incontri fatti insieme con l'Università di Scienze Gastronomiche e soprattutto con Slow Food che ci ha trasmesso questa cultura di guardare il cibo con occhi un po' diversi da quelli ai quali noi diabetologi siamo abituati a rivolgere lo sguardo attraverso delle regole precise, di conti, di pesi, che non sempre sono l'aspetto più giusto di un'alimentazione corretta. Buongiorno. 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 Buongiorno.